Ciao come state? Io vi voglio dire prima di tutto che il canale sarà inattivo fino a lunedì, quindi intanto il canale sarà inattivo e vi voglio lasciare con questo video. E tra l'altro questo qui sarà anche una breve presentazione del canale, mi presento, io sono Neon Sonic, sì lo so, avevo detto che avrei cambiato nome, però diciamo che ho deciso di restare con questo nome perché ho visto che ci sanno più di 100 persone che hanno praticamente il nome che ho scelto per questo nuovo canale, perciò ho deciso che rimanga Neon Sonic, non chiedetemi perché, però ho deciso di far rimanere questo nome. Comunque in questo canale troverete top 10 recensioni e informazioni riguardo il mondo dei videogiochi e il mondo della musica. E tra l'altro, non so se voi mi seguite su Instagram, però io avevo praticamente fatto un post in cui vi chiedevo quali sarebbero stati gli argomenti da trattare questa settimana, cioè la prima settimana di questo nuovo canale e io vi ho contentato, come sicuramente voi avrete già letto dal titolo sarà praticamente una top 10 delle canzoni più ascoltate, però nell'ambito rap, le canzoni rap estive più ascoltate in Italia in questo momento, quindi non prendiamoci in chiacchiere e iniziamo. Ciao! 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 Siamo quasi arrivati alla fine però, prima di svelare la prima posizione, io vorrei fare una piccola cosa, ovvero di mettere le menzioni onorevoli cosa sono le menzioni onorevoli? praticamente le menzioni onorevoli sono praticamente, che ne so, in questo caso mettiamo canzoni che avranno un posto in questa classifica ma che non saranno nella top 10, ovvero che io metterò le canzoni che potevano essere messe in questa top 10 ma che non sono state messe, ma verranno messe come bonus, quindi ogni top che io farò metterò menzioni onorevoli e queste menzioni onorevoli verranno messe 5 canzoni, quindi direi prima di fare le menzioni onorevoli e dopo di far vedere la prima posizione Grazie a tutti Grazie a tutti